Ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video Io sono Bri e oggi sono su Minecraft Però questo non è un video dei soliti Ma è un video speciale E' lo speciale 220 iscritti E io non mi aspettavo di raggiungere questo grandissimo traguardo Che per me è un traguardo grandissimo Però per qualcun altro potrebbe sembrare piccolo Si fa solo perché ha più iscritti di me sicuramente Però non sono mai arrivato a 200 iscritti Anche perché voi non lo sapete sicuramente Ma avevo un altro account che ho perso E proprio oggi in questo giorno Cioè proprio oggi l'ho recuperato Quindi ho deciso anche per quello di fare Lo speciale 220 iscritti Allora lei è mia sorella Margot Come vedete siamo vestite uguali Perché noi nella vita reale comunque siamo gemelle Quindi non è che sia proprio fuori luogo Mi stessi uguali in questo caso Iscrivetevi anche al suo canale Ciao Iscrivetevi al mio canale Vi lascio il nome in descrizione Si chiama Margot Sicuramente molti di voi lo sapranno già E la seguono anche su YouTube E possiamo iniziare con il video Allora abbiamo preso il necessario Qui purtroppo si è margot rotto Vabbè O niente E adesso sicuramente Siete curiosi di vedere Questa vogliamo fare E adesso vi faremo vedere Allora Stendiamo tutto qui Allora questo sarà la grandezza Della struttura che abbiamo intenzione di fare noi Per voi sarà una sorpresa Ovviamente non vi farò vedere Tutta la lavorazione Che sto dicendo Che è la farina Nel senso che Taglierò tutto Non vi preoccupate Marco sta già procedendo con i muri E mi raccomando Lasciate un bel like al video Se vi sta piacendo Anche perché Fate conto che questa cosa La sto facendo soltanto per gli iscritti Perché se io Non avrei tutti questi iscritti Questa cosa non l'avrei mai fatta Quindi vi ringrazio Per chi si è iscritto al canale E per chi Sempre guarda tutti i miei video Ogni novità L'andrò sempre Sempre a guardare Quindi vi ringrazio di tutto E ora Abbiamo finito La nostra grandissima sorpresa Che per molti potrebbe essere Una sorpresa molto piccola Però Cioè Abbiamo fatto di meglio Il nostro meglio E dovrebbe sembrare Dovrebbe sembrare Perché non è che sarebbe proprio tanto Un regalo Perché appunto 200 Cioè sarebbe Il regalo Speciale 220 iscritti Allora Adesso entriamo Se mia sorella viene Vieni 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 Faccio il fumo Anche se Mi mostro tutto giro Eh sì Allora Qui c'è tutto il tappeto rosso Perché ovviamente È una cosa importante Poi ci siamo accorti Anche che il lampadario È storto Però non fa niente Probabilmente lo sistemeremo Qui c'è la grande poltrona mia Anche però ci sono dei buchi Perché Era la poltrona della No scherzo Perché Non sappiamo come rimediare E poi qui ci sono ovviamente Tutte le casse con i diamanti Queste Le torte a terra E dei tavolini Non lo so Gli ha messi mia sorella Non lo so Cosa possiamo servire Altre torte E altri diamanti Poi ovviamente La struttura È molto complicata Da fare Anche se non è uscita Si mette Non è dritta È un po' storta Però abbiamo cercato Cioè ce ne siamo accorti Dopo Quindi era in sistema Bella cosa Sennò ci avrei messo Tre anni per finirlo Però da lontano Sembra Da lontano Sembra Un regalo Un regalo Con molta difficoltà E immaginazione Si riesce a notare Il regalo Comunque Questo era Lo speciale 220 iscritti Purtroppo Non ce ne sono riuscita A fare di più Anche se Ci ho messo tantissimo Con l'aiuto Di mia sorella Dove è andata? Se ne è sparita Ok Eccola Insomma Tipo si Tante le cose andate Siamo uguali Sì va bello Dove sei già all'inizio del video E comunque Non è uscito il massimo Come cosa Perché Molti youtuber Fanno molto meglio E si impegnano di più Anche se io mi sono impegnata Al massimo Veramente Non E anche io E anche mia sorella Però per me È un po' più importante Perché comunque Gli iscritti Non sono in suoi Sono i miei Quindi Per me è un po' Vi siete piaciute Vi ringrazio Tantissimo 220 volte Vi ringrazio Per Appunto 220 iscritti E Per le visualizzazioni E i like Diventa 230 E a ogni traguardo Farò Altre video speciali Appunto Dedicati A voi Spero di che Questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like al video Iscrivetevi al canale Anche a quello di mia sorella Vi lascio il nome in descrizione E Ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao